Nel video precedente eravamo arrivati a dire che l'Inghilterra diventa una repubblica dopo che il re Carlo I venne decapitato nel 1649. Tra il 1649 e il 1658 l'Inghilterra fu governata da Oliver Cromwell, il quale riesce a trovare un punto di equilibrio all'interno del Parlamento. Oliver Cromwell si scontra però con i partigiani del re e con i cattolici. Perché i cattolici vi starete chiedendo? Perché aveva confiscato ai cattolici i beni e addirittura li aveva arrestati. Oliver Cromwell si era scontrato anche con i diggers, cioè gli zappatori, che volevano abbattere le recensioni ed eliminare la proprietà privata. Col tempo Cromwell diventa sempre più autoritario, anche se il ricordo che rimane di lui nella storia inglese è un ricordo particolarmente positivo. Nel 1653 scioglie il Parlamento e convoca il cosiddetto Parlamento dei Santi, cioè un'assemblea dei suoi seguaci. Era detto Parlamento dei Santi perché i suoi membri erano estremamente religiosi. Nel 1653 gli viene dato il titolo di Lord Protector, che fu reso ereditario nel 1657. Governerà quindi con l'aiuto di un consiglio molto ristretto. Durante l'epoca di Cromwell il prelievo fiscale era elevatissimo, infatti raggiungeva il 20% del reddito. Questo, pur essendo molto negativo, come si può capire, risultò nei fatti un elemento di sviluppo, perché solo coloro che riuscivano a coltivare i loro campi nel modo più efficace ed efficiente, riuscivano a pagare le tasse del 20% e quindi questo portò i contadini a superare loro stessi per riuscire a rimanere a galla. Cromwell sopprimerà i diritti feudali e ridistribuirà le terre sequestrate ai partigiani di Carlo I agli altri contadini. Inoltre darà un impulso alle recinzioni. Oliver Cromwell implementerà anche la flotta. Infatti l'Inghilterra diventerà una vera e propria potenza navale. Nel 1651 emana l'atto di navigazione, secondo il quale il commercio da e per l'Inghilterra era concesso solo alle navi inglesi o alle navi dei paesi da cui provenivano le merci. Questo recò un grandissimo danno agli olandesi. Alla morte di Cromwell nel 1651, il problema più forte, più pesante in Inghilterra era sicuramente il fatto che vi erano molti salariati agricoli e moltissimi contadini impoveriti. Gli succederà per poco tempo il figlio Richard. Viene richiesta la convocazione del Parlamento Lungo che ristabilì la Camera dei Lords e indisse nuove elezioni. Con queste votazioni nella Camera dei Comuni vennero votati soprattutto filomonarchici, quindi persone che sostenevano il re e la necessità di una monarchia. E quindi nel 1660 richiamano Carlo II Stuart, il figlio di Carlo I. Questo era Oliver Cromwell e ora abbiamo Carlo II Stuart. Eccolo qui. Carlo II Stuart ristabilì la monarchia ma con moderazione. Nel corso del suo governo ci furono due grandi sciagure, entrambe nel 1666. Prima di tutto ci fu un'epidemia di peste. In seguito ci fu uno spaventoso incendio di Londra che distrusse gran parte della città e partì da Padding Lane vicino al London Bridge. Morirono 13.000 persone durante questo incendio. Anche perché moltissime persone a causa della peste avevano abbandonato la città e si erano recati in campagna e quindi di fatto molte case erano vuote e bruciarono senza che nessuno potesse far nulla e quindi o nessuno facesse nulla e quindi l'incendio si propagò a una velocità incredibile. Moltissime persone inoltre scapparono in seguito all'inizio dell'incendio e quindi di fatto c'erano pochissime persone che provarono a spegnerlo. Inoltre con Carlo II viene anche restaurata la chiesa anglicana e l'influenza dei cattolici era molto forte tant'è che nel 1672 emanò la dichiarazione di indulgenza per tutelare le religioni ma quindi in particolare per tutelare i cattolici. Il Parlamento però reagì, reagì emanando il test act secondo il quale solo gli anglicani potevano accedere alle cariche militari e pubbliche e quindi erano esclusi i cattolici. Si passò poi all'exclusion crisis con la quale il Parlamento cercò di negare il trono al cattolico Giacomo II. Nel 1679 venne emanato l'Abeas Corpus Act che è veramente un evento fondamentale da ricordare. Perché? Perché i cittadini che erano stati arrestati arbitrariamente dalle guardie del re non potevano essere detenuti ma dovevano essere portati entro tre giorni di fronte al magistrato. Solo il magistrato quindi poteva decidere se il prigioniero dovesse essere detenuto oppure dovesse essere liberato. Abeas Corpus in latino significa abbi il tuo corpo e vuol dire quindi ti sia data la tua libertà. Questo fu un passo veramente fondamentale e importantissimo per la creazione di uno stato di diritto. Intanto il Parlamento era spaccato in due da una parte i Wings che osteggiavano Giacomo ed erano tolleranti nei confronti dei cattolici e dall'altra i Tories che erano i sostenitori dell'anglicanesimo. Nel 1685 Carlo muore e la corona passa a suo fratello Giacomo II. I problemi sorgono quando Giacomo vuole sospendere il Test Act con una nuova dichiarazione di indulgenza. Però questo viene visto in modo negativo prima di tutto perché è un'azione contro il Parlamento e in secondo luogo perché è un'azione contro il Papa, contro a favore del Papa, quindi contro i protestanti. Inoltre Giacomo II sposa una cattolica in seconde nozze e da lei al tanto agognato erede maschio. Questo erede quindi sarebbe salito al trono alla sua morte poiché le altre due figlie che aveva dal primo matrimonio erano donne, erano femmine, cioè Anna e Maria. Maria aveva sposato Guglielmo d'Orange che era un protestante ed era lo stadholder d'Olanda. Nel 1688 il Parlamento depone il re e chiama Guglielmo d'Orange come sostituto. Guglielmo d'Orange quindi attraversa la manica e sbarca in Inghilterra. Carlo scappa in Francia invece. Nel 1689 Guglielmo d'Orange e Maria Stuart vengono incoronati come sovrani d'Inghilterra. Questa viene ricordata nella storia come la Glorious Revolution, la rivoluzione gloriosa nella quale non ci furono spargimenti di sangue. All'incoronazione Guglielmo d'Orange e Maria Stuart devono sottoscrivere la dichiarazione dei diritti che diventerà poi il Bill of Rights. Il Bill of Rights sancisce le libertà fondamentali e le garanzie per i sudditi e riafferma anche le prerogative del Parlamento. Seguirà nel 1689 l'atto di tolleranza che abrogherà definitivamente il Test Act. Nasce così la monarchia costituzionale nella quale il re è sottoposto a precisi vincoli e il Parlamento ha un peso sempre più crescente. La monarchia costituzionale poi vedrà un'evoluzione e nel 1701 diventerà una monarchia parlamentare, quindi con un ruolo sempre più importante e sempre più centrale del Parlamento. Nella monarchia parlamentare i ministri del re non potevano governare senza il consenso e l'appoggio della maggioranza parlamentare. Questo costituì un chiaro antecedente del principio della fiducia parlamentare ai governi che ancora oggi è in vigore anche in Italia.